Buongiorno buongiorno e buon giovedì 30 novembre voglio stringere voglio stringere con un forte forte abbraccio Giorgio Perinetti direttore sportivo conosciuto da tutti oggi a Lavellino una persona educata corretta gentile sempre una frase ogni Natale per mandarmi gli auguri una persona che ho apprezzato conoscendola e parlando con lui più volte voglio stringere con un abbraccio forte forte perché dopo cinque anni della scomparsa della moglie Daniela per una brutta malattia è stato colpito da un altro lutto tremendo ieri è morta la figlia Emanuela di soli 34 anni avevo conosciuto Emanuela qualche anno fa una ragazza una signora gentile preparata ebbene l'ho lasciato e quindi voglio essere vicino a Giorgio Perinetti per questo altro doloroso lutto ora parliamo come sempre della cosa più importante delle cose meno importanti come il calcio la cosa più importante delle meno importanti è una frase che ripeto sempre che quando parliamo di drammi quando parliamo di cose dolorose non dobbiamo mai dimenticarlo che è sempre la più importante delle meno importanti e cari amiche cari amici che invito sempre a scrivermi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like per raggiungere siamo a 148 e 900 siamo quasi a 149 mila ma il titolo è tutto dedicato alla giornata di ieri a quello che è successo io voglio però andare a quello che è successo l'altro ieri innanzitutto perché non mi è ancora passata non mi è ancora passata non mi è ancora passata non la sconfitta anche la sconfitta ma non mi è ancora passata l'immagine di ciao con la gamba in mano con la coscia in mano un ciao che il milan perderà da due mesi e mezzo a tre mesi dobbiamo aspettare che scusate la crudezza dell'immagine che il sangue che si è accumulato là dove ha accusato la lesione mio tendine si si riassorba per capire la condizione del tendine non dovrebbe essere tragica come quella di florenzi il tendine di florenzi addirittura si era staccato ed era salito quindi ecco perché è stata necessaria una operazione che l'ha lasciato fuori sei sette mesi qua vedremo lo vedranno i dottori lo vedranno i medici quale sia la condizione del tendine per capire anche la gravità dell'infortunio che ieri già il milan ha chiamato con un termine che non abbiamo mai visto in un comunicato medico severo ha usato la parola severo l'aggettivo severo ve lo spiego perché dice attenzione grave ma non sappiamo ancora quanto sia grave perché dobbiamo esattamente capire quando il sangue si riassorbirà ho ancora immagini quella immagine nella mia mente le mani nei capelli di capitano davide calabria e questo questo silenzio agghiacciante che si è che ha avvolto san siro certo i ragazzi della curva sud hanno cantato hanno cercato di aiutare non solo i giocatori del milan ma di trascinare anche il pubblico questa volta non ci sono riusciti forse hanno aiutato i ragazzi ma il pubblico non li ha seguiti eravamo erano eravamo tutti ammutoliti a pensare all'ennesimo infortunio all'ancora un milan mutilato dei suoi campioni e questa è quella mezz'ora mi rimane mi rimarrà sempre impressa perché sono stati tre anni meravigliose di emozioni di una squadra di un gruppo di un allenatore che ha trascinato e mi ha fatto vivere tre anni emozionanti e temo o perlomeno spero di no ma sono preoccupato che qualcosa si sia forse rotto perché il pubblico no non sono così sciocchi di lasciare la squadra per le sconfitte ma sono stati settimane frustranti non solo per il risultato ma anche per questo continuo continua falcidie di infortuni andiamo a vedere il motivo ieri ho letto no non è colpa dell'allenatore dello staff ma forse il turnover non applicato alla grande come se il turnover non fosse scelto dallo staff e dall'allenatore però adesso bisogna risolvere perdere energie per cercare colpevole di una cosa passata non serve non serve ci fa solo ancora più esacerbare gli animi no bisogna risolverla per il futuro io non so come la risolveranno hanno già detto cerchiamo di risolverla ma dopo quello che hanno detto abbiamo visto un altro infortunio quindi quella mezz'ora l'infortunio e questi momenti non mi sono ancora passati è chiaro che sarebbe dolorosissimo uscire dalla Champions League per me l'uscita della Champions League è sempre stato il momento più brutto della stagione sì poi magari vinci il campionato è già capitato lo ricordo bene nel campionato 2003 2004 quando il Milan vince esce drammaticamente dalla Corugna dal deportivo la Corugna ma poi vince il campionato adesso il Milan è difficile che passi il turno ma ieri che passi il girone ma ieri mi hanno detto stai calmo e allora lo cerco io faccio fatica ma cerco di trasmettere quello che mi hanno detto attenzione il Milan deve battere il Newcastle e sarà già un'impresa perché poi se non batte il Newcastle la chiudiamo lì deve già battere il Newcastle questo è fondamentale ma non basterà perché bisogna vedere il risultato del Paris Saint Germain però mi hanno detto stai attento non essere pessimista perché il Paris Saint Germain hanno usato questa frase è una squadra forte fortissima grandi giocatori ma molto friabile il Borussia Dortmund se vince porta a casa 3 milioni 3 milioni e potrebbe in caso di vittoria del Milan ma anche del Newcastle perché il Milan e il Newcastle sono pari nel caso perdesse il Paris Saint Germain ebbene se dovesse perdere il Paris Saint Germain il Borussia non ce l'ha tra i piedi eventualmente nei quarti di finale perché negli ottavi non la può affrontare ma nei quarti potrebbe ritornare quindi concentriamoci sul Newcastle cerchiamo di recuperare i giocatori vi do notizie riguardo al recupero dei giocatori chiaro che il Milan ha perso Ciau non ho ancora recuperato Caffor però con l'Atalanta col Frosinone è l'ultima partita ancora di totale emergenza speriamo che sia l'ultima partita di totale emergenza dovrebbe tornare tra Frosinone ma mi sembra difficile e Bergamo dovrebbe tornare Benasser almeno per la panchina ma intanto torna dovrebbe tornare per l'Atalanta Leao e sono già due e tra Atalanta e Monza dovrebbe tornare Chier quindi incominciano a ritornare incominciano a permettere magari un leggero turnover dopo l'impresa che aspetta il Milan contro il Frosinone un leggero turnover potrebbe già cominciare in attesa che torni Ocafor scusate ho urtato perché il piede ballava dal nervoso adesso lo prendo calmo dicevo il fatto che Ciu Cueze torni può dare ancora indipendentemente da Ocafor la possibilità di far girare Ciu Cueze e magari far tirare il fiato ogni tanto a Leao per non fargli giocare i 90 minuti quindi cerco di trasmettervi questa speranza una speranza che non è morta per i tifosi della curva perché hanno organizzato un meraviglioso charter andate e ritorno per Newcastle e ieri non ci sono state o l'altro ieri anzi ieri delle disdette anzi ci sono state delle nuove prenotazioni è quasi totale, completo questo volo andate e ritorno per stare vicini il volo charter anche io prendevo sempre ai tempi il volo charter o del Milan Club o dell'associazione italiana qualche Milan Club ricordo abbiamo avuto dei charter organizzato dal Milan Club vecchio Milan Club Forlanini con il Milan Club Donne Rosso Nere con la fossa dei Leoni che era all'interno del Milan Club Forlanini parlo degli anni 70 quando si volava per seguire il Milan nella Coppa delle Coppe per esempio siamo andati a Salonico per vedere la finale e la vittoria contro il Leeds eravamo su un charter organizzato quindi non ci sono state disdette anzi ancora e ormai quasi completo mancano pochissimi posti e quindi chi volesse andare a seguire i ragazzi con i ragazzi della curva c'è ancora qualche posto per stare vicino al nostro Milan chiudo con Zlatan Ibrahimovic lo aspetto scusate mi dicono razionalmente guarda che però non sarà nell'organico del Milan andrà sotto la sfera sottolegida di Redbird va bene va bene tutto d'accordo che venga e che venga ieri io non so per quale motivo ma ci saranno dei motivi tecnici dei motivi democratici dei motivi economici non entro in merito però non mi interessa un fatto che lui eventualmente torni e venga considerato il salvatore della patria e quindi aspettano magari un momento un po' più tranquillo ma non mi interessa mi interessa che arrivi subito Pioli ripeto è stato confermato confermato sempre ovviamente ma seguito con più attenzione capite quello che voglio dire dai dirigenti dirigenti che hanno ritenuto che oggi sia sulla bilancia sia più pesante la continuità ed evitare una scossa e lo shock ai giocatori rispetto a un altro tipo di shock cioè l'arrivo di un altro allenatore questa è stata la decisione dopo il colloquio ieri di Gerry Cardinale accompagnato da Giorgio Furlani con Stefano Pioli però la tendenza è arrivare almeno a giugno però ovviamente l'allenatore sarà monitorato sia per quello che riguarda il discorso infortuni sia per quello perché anche se è il turnover eccetera ma è lui se no da chi andiamo vado da da uno che passa per strada e bisogna chiedere a lui per quello e poi per i risultati sperando di incominciare a recuperare i giocatori di non perderne dei nuovi che è la cosa fondamentale e poi vediamo se il mercato di gennaio dove mi dicono già poi ne approfondiremo magari nel video di mezzogiorno per adesso nessuno svincolato prima cosa seconda non mi sembra che ci sia intenzione di spendere molto denaro ve lo dico già ma si andrà a cercare dei parametri zero o dei prestiti o dei prestiti vedremo ma adesso cerchiamo di uscire da questo momento un po' di sconforto se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale di tutto di Carlo Pelleca e iscrivetevi al canale di tutto